Oroscopo del giorno, domenica 16 agosto 2020 Ariete Amore, in questa giornata sarete pieni di energie, forti ed importanti, talmente tanto che agirete in maniera istintiva, senza riflettere abbastanza su una determinata situazione o su una persona. Sarà importante tenere gli occhi aperti. Lavoro Oggi potrete mettere da parte tutti gli impegni di lavoro e godervi una domenica tranquilla. Toro Amore Oggi il vostro umore non sarà al massimo, ma chi vi sta accanto cercherà comunque di tirarvi su. Le emozioni quindi non mancheranno. Dovrete però stare attenti a delle energie un po' particolari di questa giornata. Lavoro Non sarete molto concentrati e il vostro modo di fare potrebbe non convincere qualcuno. Genelli Amore Le stelle vi baceranno in questa calda domenica di agosto. Vi spingeranno ad essere forti e coraggiosi, per cui sarà semplice affrontare tutti quei piccoli problemi presenti in una relazione di coppia. Lavoro Le vostre idee potrebbero non essere condivise da chi lavora al vostro fianco. Cancro Amore Durante questa giornata avrete voglia di vivere qualche novità che vi faccia sentire meglio. Non mancherà infatti il desiderio di godersi nuove emozioni e nuove situazioni. Certo è che tutto dipenderà da voi. Lavoro La voglia di cambiamento si farà sentire pure a livello professionale. Potreste pensare ad un nuovo progetto. Leone Amore Questa sarà una domenica decisamente positiva, in cui le buone energie e i sentimenti vi terranno compagnia. Sarà facile trascorrere del tempo in piena armonia al fianco del proprio partner. Il buon umore sarà garantito. Lavoro La grinta sarà tantissima e sarà possibile affrontare sfide e scavalcare gli ostacoli. Siate ottimisti nei confronti del futuro. Vergine Amore Oggi guarderete diritti al domani, anche perché vi renderete conto di quello che provate realmente per una persona. Forse però quella persona in questione è ancora un po' troppo distante da voi. Questo non dovrà farvi abbattere. Lavoro Finalmente darete il giusto peso ai vostri sogni. Con impegno e determinazione non saranno irraggiungibili. Bilancia Amore Amore In questa giornata estiva vi sentirete a vostro agio con il partner. Vi sembrerà semplice comunicare, esprimervi e dire finalmente tutto ciò che vi passa per la testa. Non vi farete troppi problemi. Lavoro I progetti in mente non mancano. Se ci tenete particolarmente sarà il caso di condividerli con qualcuno. Scorpione Amore In questa domenica probabilmente sognerete un po', allontanandovi per un attimo dalla realtà. Una certa distrazione vi farà bene. D'altronde avrete voglia di qualche cambiamento, soprattutto se non state vivendo un buon periodo in amore. Lavoro È probabile che metterete da parte i vostri obiettivi. Vi prenderete un giorno di pausa? Sagittario Amore Questa domenica sarà speciale per chi è impegnato in una relazione amorosa. Sarà inevitabile lasciarsi andare alla passione, alla dolcezza e alla complicità con la propria dolce metà. È probabile che organizziate qualcosa di particolare. Lavoro È domenica ed è estate. Per oggi potreste prendervi la comoda e concentrarvi sulla sfera intima. Capricorno Amore Questo potrebbe essere un giorno un po' complicato da affrontare, perché le stelle non aiuteranno energie ed entusiasmi. I pensieri e i dubbi vi faranno compagnia, anche se voi preferireste avere la mente libera. Lavoro Lavoro Sentirete la necessità di libertà e leggerezza, soprattutto in un periodo un po' stressante. Prendetevi un momento di relax. Acquario Amore Amore Giornata interessante sul fronte dei sentimenti. Vi piacerà trascorrere la domenica al fianco della persona che amate e che vi fa stare bene. Le emozioni di oggi saranno sicuramente molto speciali e tutte da vivere al massimo. Lavoro Giorno positivo pure in fatto di lavoro, perché avrete delle intuizioni che non dovranno essere sottovalutate. Pesci Amore In questa giornata le stelle saranno dalla vostra parte. Sarà il caso di ascoltarle, perché vi sentirete forti e probabilmente dovrete prendere delle decisioni. Forse nel rapporto di coppia qualcosa non funziona come vi piacerebbe. Lavoro Avreste bisogno di credere in qualcosa di nuovo e di diverso. Qualcosa che vi fa sentire bene in maniera sincera. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Al prossimo episodio 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 Al prossimo episodio